Siamo a Formicola, qui, come in molte parti del nostro paese, si è consumata una delle tante tragedie provocate dalla furia nazista. Qui venne assassinata dai tedeschi senza un motivo una giovane madre strappata alla vita e ai suoi figli. Parliamo dell'uccisione di una contadina di appena 47 anni, di Lautoni, una piccola frazione del comune di Formicola. Si chiamava Rosa Parillo, sposata e madre di due figli. Dopo quasi 80 anni un testimone oculare ci racconta, con ricordi agliaccianti e con un pochi sforzi e motivi, l'atroce violenza. A parlare per la prima volta è Antimo Ricciardi, uno stimato maestro elementare di 93 anni, originario di Formicola, che quella scena tragica la porta stampata nella sua mente nel suo cuore, senza sfumature, ancora nitida. Antimo era un ragazzino già seminarista a Cagliazzo e lui su quelle macerie, su quello scenario di morte c'era, quell'11 ottobre del 1943. Lui ha visto tutto e ha trovato la forza per raccontare solo oggi quel dramma affinché le nuove generazioni sappiano. Sì, io l'ho vissuta. Io ero su quel cumulo di macerie dove erano innumerevoli persone provenienti da Formicola che volevano varcare quel posto e procedere per cavallare fondola e diffondersi nelle montagne vicine per paura dei tedeschi che avevano cominciato a bruciare le case a Formicola. Successivamente poi vennero all'autunico e minarono la nostra casa. Di Rosa Parillo che cosa ha visto lei? Io ero vicino a Rosa Parillo, vicino, quando è arrivata una motocicletta, un citycar di tedeschi. Uno dei due è sceso ed è venuto sul cumulo di macerie. A quel punto qualcuno, come abitualmente si faceva, si diceva in quelle circostanze, i tedeschi, per avvisare che c'era un pericolo. Una donna, una voce, disse, i tedeschi, tutti che cercavamo di cambiare direzione. Questo tedeschi che era sceso dal citycar, estrasse una pistola e sparò un colpo che colpì al collo Rosa che era accanto a me. Io l'ho vista cadere. E in pochi minuti il collo si è ingrossato e lei è morta all'istante. E che cosa è successo poi? È successo che la folla si è diradata. Io dopo non ho visto più nessuno sulle macerie della mia casa. E pure io sono scappato. Non ho visto chi ha preso Rosa, ma comunque ho visto che è morta all'istante. E ricordo che il collo era diventato enorme. Lei questa donna la conosceva? Sì, la conoscevo. Ricordo che abitava a Formicola, via Maiorano e aveva due figli. Una femmina, mi pare che sposò un cittadino di Maddaloni. E il maschio, Alfonso, una bravissima famiglia. Brava lei. Ricordo che frequentava casa mia e veniva a fare la spesa nel negozio. E bravi figli. In tutti questi anni che ricordo si è portato lei? Un ricordo che non sapevo a chi raccontare questo fatto. E non sapevo come far emergere questa situazione di grave difficoltà. Questa situazione che mi angosciava, me ne ricordava ogni tanto. Lei è la prima volta che racconta questo? E' la prima volta che racconto. L'avrò raccontato pure in privato, ma è la prima volta che racconto a una persona che la diffonde questa notizia. Io ho vissuto un'angoscia continua. Poi quando ho visto anni fa che giù nella piazza alla teglia di Formicola avevano affisso, avevano messo una lapide, sono andato a leggere i nomi per verificare se ci stesse il nome di mio cugino Ricciardi Francesco disperso in Russia. E leggendo poi ho trovato anche il nome di Rosa Parillo. Ho emesso un sospiro di sollievo. Dico, meno male che non l'abbiamo dimenticata del tutto questa donna. Una storia alla quale non serve aggiungere altro se non quello di ricordare ancora una volta, con questa durissima testimonianza, l'assurdità e l'inutilità delle guerre. Da Lautoni, frazione di Formicola e tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it